Il pollo di Trilussa è sempre un grande esempio di come far la media, a volte è una sciocchezza. Io mangio tutto il giorno biscotti e pasticcini, potrebbero bastare per dieci e più bambini. Fame zero, fame zero, fame zero, fame zero, fame zero, fame zero, fame zero. Se voglio mantenere il mio spile di vita, qualcuno qui vicino potrebbe far fatica. Bisogna far qualcosa, possiamo ragionare, perché di questo passo non si può proprio andare. Fame zero, 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 fame zero. Bisogna far qualcosa, far forzare i governanti, sin povertà assoluta, siamo davvero in tanti. Non so l'enso del mondo, non so l'occhio è lontano, magari il tuo vicino, aspetta la tua mano. Fame zero, fame zero, fame zero, fame zero, fame zero. Amen. Zero.